Musica Buongiorno, benvenuti a questa edizione del TV giornale di Telestense. In primo piano ancora una volta l'allerta meteo per la nostra provincia, per quanto riguarda il freddo e i venti gelidi, mentre sul centro Italia è arrivata abbondante anche la neve, in particolare a Roma forti disagi, scuole chiuse con ripercussioni anche sul traffico ferroviario. Attualmente rende noto ferrovie dello Stato. Si registrano ritardi medi di 120 minuti, treni a alta velocità provenienti da nord e in proseguimento su Napoli, fermano nella stazione di Roma a Tiburtina e non a Roma Termine. Al momento sono sospesi i collegamenti non stop del Leonardo Express tra Roma Termine e l'aeroporto di Fiumicino. Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio, che afferiscono alla capitale. Sul resto della rete nazionale il traffico al momento non registra particolari criticità, ma l'attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide. L'offerta di servizi ferroviari potrà subire ulteriori modifiche e riduzioni. Restano attivi i piani neve e gelo di RFI e Trenitalia. RFI è impegnata con le proprie squadre tecniche su tutto il territorio nazionale e anche quello regionale per fronteggiare l'emergenza, presidiando i punti nevralgici della rete e intervenendo anche con l'ausilio delle ditte appaltatrici. Trenitalia ha potenziato i servizi di assistenza ai clienti e sta riprogrammando, laddove necessario, i servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni. Il gruppo Ferroviario dello Stato italiano invita dunque i viaggiatori a fare attenzione e informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio anche attraverso i canali di informazione del gruppo Ferroviario dello Stato italiano fsnews.it e su Twitter l'account at fsnews.it Il termometro è andato alcuni gradi sotto lo zero durante la notte non solo a Bologna ma anche a Ferrara dove la città si è però svegliata con il sole una giornata fredda e limpida. La neve caduta ieri ha tecchito solo nelle colline intorno al capoluogo di regione, cumuli maggiori nel Pinnino sia in Emilia che in Romagna. In alcune località è stata decisa la chiusura delle scuole per precauzione. Le prefetture delle città in regione anche a Ferrara hanno disposto dalla sera di sabato lo stop ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate proprio per evitare rischi legati al ghiaccio. Ieri pomeriggio sono entrati in funzione i mezzi spargisale anche su tutta la rete viaria della nostra provincia e anche del comune. Sentiamo. Temperature artiche e rischio gelate, quanto ci attende nelle prossime ore e stando alle previsioni anche nei prossimi giorni, non solo nella provincia di Ferrara ma in tutta l'Emilia Romagna. La neve è arrivata solo sui rilievi ma il gelo non risparmierà la pianura. Temperature fino a meno 7 gradi a Ferrara nella notte tra domenica e lunedì e minime attorno ai meno 5 fino a mercoledì 28 febbraio. E per far fronte alla nuova allerta emessa oggi dalla protezione civile, valida per tutta la giornata di lunedì 26 febbraio, che parla di un drastico calo delle temperature, la provincia di Ferrara nel pomeriggio di domenica ha proceduto alla salatura degli 850 chilometri di strade di sua competenza. Salatura prevista anche per le strade comunali, mentre dalle 22 di sabato la prefettura ha disposto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti. Non potranno transitare dunque veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull'intero sistema viario della provincia di Ferrara, autostrade, strade statali e provinciali, fino alle cessate esigenze, salvo una rivalutazione sulla base di un costante monitoraggio in relazione all'evolversi del fenomeno. Sono esclusi dal divieto gli automezzi che trasportano derrate alimentari deperibili, altri prodotti deperibili, ad esempio frutte e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché ai sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi. Esclusi dal divieto anche i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza che trasportano materiale e attrezzi occorrenti a questo fine e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio. In caso di nevicate infine ci sono 37 mezzi della protezione civile pronti per entrare in funzione per la pulizia delle strade. E sono state riconfermate per la stagione invernale 2017-2018 dal settore opere pubbliche e mobilità le modalità del piano neve e ghiaccio attivate già nel 2010 che vedono all'interno del comune una centrale operativa per affrontare le criticità in caso di neve e ghiaccio nel territorio comunale di Ferrara. Sono 10 dipendenti comunali del settore opere pubbliche e mobilità che fino al marzo prossimo coordineranno la centrale operativa per la gestione sia del piano neve sia delle altre attività di emergenza e di routine relative alla viabilità nel periodo invernale occupandosi principalmente delle operazioni di salatura delle strade e di sgombero della neve. In caso di precipitazioni nevose la centrale sarà attivata con operatività 24 ore su 24 attraverso la rotazione del personale a disposizione su tre diverse fasce orarie. I 38 mezzi dedicati tra sparti e neve e spargisale sono forniti da un consorzio di aziende locali sulla base di un contratto di appalto. Materiale informativo relativo al piano neve che contiene anche riferimenti telefonici, utili, istruzioni e consigli da seguire in caso di precipitazioni nevose o presenza di ghiaccio sarà a disposizione nelle sedi comunali aperte al pubblico. Torniamo ad occuparci della campagna elettorale che si appresta a vivere l'ultima settimana prima del voto, una campagna segnata purtroppo anche da manifestazioni di violenza e odio nei confronti di diverse realtà del panorama politico del Paese. Occorre insegnare di nuovo ai cittadini come si sta in una comunità, sottolinea Elena Torri, candidata nel collegio plurinominale di Ferrara al Senato, con la lista più Europa con Emma Bonino che aggiunge la politica a responsabilità enormi se si parla alla pancia della gente e istiga alla paura. In questa campagna elettorale si stanno manifestando dei fenomeni di violenza che addirittura anche nelle piazze, ma come lei sostiene, hanno un'origine più antica che parte da lontano. Sì, assolutamente, è un bruttissimo momento con aggressioni di qualsiasi colore e di qualsiasi tipo. Secondo me è un problema proprio di tipo culturale ormai, ormai ci si permette di dire qualsiasi cosa, ognuno è libero di pensare quello che vuole e fin qua ci sta, ma anche di agire e dire quello che vuole. Lo vediamo nella scuola, lo vediamo in qualsiasi contesto. Ecco, io penso che questo sarebbe il momento della responsabilità, di cominciare nuovamente ad insegnare a come si sta in una comunità. Di chi, a chi spetta questo compito e come, secondo lei, da dove si può partire e come? Spetta un po' a tutte quelle che sono le figure istituzionali, diciamo così, della nostra comunità. Sicuramente la politica ha delle responsabilità enormi. Io credo che parlare alla pancia delle persone, istigare alle paure, sia una delle cose più brutte che in un momento come questo si possa fare. Dopodiché ci sono tante situazioni. La scuola deve ritornare ad essere quella grande struttura di insegnamento e le famiglie, le famiglie non possono mai mettersi in contrapposizione con le altre istituzioni. Quindi un nuovo gioco di squadra fra tutte quelle che sono le componenti fondamentali della nostra società. La cronaca ora è stato arrestato dai carabinieri di Comacchio, l'uomo che sabato sera a Porto Garibaldi stava disturbando i clienti di un bar dell'area di servizio che si trova sulla statale Romea. Verso le 23 la pattuglia è intervenuta su richiesta dei titolari del bar, visto che l'uomo, un ucraino senza fissa dimora di 48 anni, era in evidente stato di alterazione psicofisica. I militari arrivati sul posto sono riusciti a bloccare il 48enne che però non ha esistato a colpire al volto e alle braccia uno dei carabinieri. L'arrestato, che dovrà rispondere del reato di resistenza pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato nel carcere di Ferrara in attesa del processo. Con rito direttissimo. Ora parliamo dell'assemblea dei soci dell'Avis comunale di Ferrara. si è parlato dei progetti e degli eventi legati all'associazione che lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni di attività in città. Sono stati 4.618 con un aumento di 112 rispetto all'anno precedente i donatori di sangue nel 2017 presso l'Avis comunale di Ferrara. Il bilancio è stato reso noto durante l'assemblea dei soci che l'associazione ha tenuto anche per presentare progetti ed eventi per i prossimi mesi, dopo i recenti festeggiamenti relativi ai 50 anni di attività dell'associazione in città. Intanto dobbiamo consolidare il 2017 le donazioni che sono in positivo. Ma queste collaborazioni che abbiamo così iniziato con tutte le comunità ortodosse, musulmane, e c'è questo appello del Vesco che è quello di fare una domenica, è vero, in tutte le parrocchie, con il messaggio del Vesco insieme all'Avis per l'adorazione del sangue. Questo è un primo aspetto di aperture forte che noi possiamo... Poi c'è il discorso, è vero, che noi dobbiamo aumentare la base associativa, cioè noi dobbiamo cercare di avere tanti giovani, anche non giovani, che si vicino all'adorazione del sangue. Perché? Perché sono usciti tanta gente per la zianità, per ragioni anche di malattie. Abbiamo bisogno di questo ricambio, indispensabile. Numerosi presenti all'incontro, oltre ad esponenti provinciali e regionali dell'Avis, da rappresentanti religiosi, tra cattolici, ortodossi e musulmani, ad esponenti politici, a forze dell'ordine militari, tra cui il generale dei Carabinieri, per anni comandante del comando provinciale di Ferrara, Antonio Labianco. Con altre forze di polizia abbiamo fondato un gruppo di donatori interforze, interforze che esiste solo a Ferrara, come primo esempio di questa sodarizio che vuole proprio sensibilizzare alla donazione del sangue e gli appartenenti delle forze armate e ricevere in cambio degli incontri formativi utili per tutti i militari, i familiari, eccetera. Un ringraziamento ai tanti donatori è arrivato dal presidente di ALT, l'associazione talassemici, Valentino Orlandi, che ha sottolineato l'importanza del gesto solidale per i riceventi. Noi dobbiamo ringraziare come paziente, come associazione, l'Avis e tutti i donatori di sangue in modo particolare, perché loro fanno un gesto di donare la vita. La talassemia, come altri morobino, e tutti quelli che hanno necessità di sangue, senza il donatore di sangue non potrebbero sopravvivere. Durante il pomeriggio si è tenuto un collegamento via Skype con Alessandro Mazzini, figlio del presidente Avis, Sergio, che sta prestando servizio presso il centro Trasfusionale Nazionale della Repubblica Centroafricana, in sinergia con Emergency. Sta cercando di sensibilizzare, di formare sia tecnici per la raccolta adeguata e lo stoccaggio adeguato del sangue, quindi l'analisi del spa, e la popolazione, che è la cosa più importante, perché il sangue chiaramente non si può portare da uno spazio all'altro facilmente come in Italia o in Europa. Partita dal 2018, sotto richiesta dell'OMS, questa collaborazione, con il Centro Trasfusionale Nazionale, per necessità, soprattutto a causa delle guerre repentine in questi paesi. Parliamo ora di una mostra davvero originale, quella che verrà ospitata dalla MLB Gallery di Corso Ercole I d'Este a Ferrara. Avrà per protagoniste le opere, tutte realizzate solo ed esclusivamente con la penna BIC di Marcello Carrà. Un'esposizione con un forte legame, con quella che nello stesso periodo, dal 2 marzo al 10 giugno, si terrà a Palazzo dei Diamanti. Venerdì 2 marzo, le 18, inaugureremo la mostra di Marcello Carrà Accelerazioni dello Spirito, alla MLB Home Gallery di Ferrara. La mostra è collegata a quella di Palazzo dei Diamanti, degli stati d'animo, legata a Previate e Boccioni. Infatti Marcello Carrà ha lavorato un anno per ideare tutto un ciclo di opere ispirate a questo tema. Quindi è partito proprio dagli iscritti degli artisti, in particolare dagli iscritti di Boccioni, e ha ideato le sue straordinarie opere, tutte realizzate a penna BIC, sul tema della staticità, della dinamicità e degli stati d'animo. La cosa incredibile è che alcune di queste opere raggiungono anche i 4 metri di lunghezza. Alcune di esse, addirittura, sono sott'acqua. Quindi lui ha realizzato questi disegni, li ha messi tramite un vetrocamera sott'acqua, e le opere sono rotanti, perché mostrano due diversi stati d'animo, quello accelerato, legato ai nostri tempi, e quello più statico, più spirituale, legato invece appunto ai dipinti del passato. Ad esempio, un'opera realizzata in questo modo, quindi rotante, è l'opera che parte da una riflessione su l'Ave Maria a trasbordo di Segantini, quindi con questa piccola barca, in cui c'è questa atmosfera di grande spiritualità e serenità, quest'opera ruota e diventa una nave da crociera dei nostri tempi, dove invece c'è la frenesia, il divertimento a tutti i costi, e quindi esattamente contrario di quello che è lo spirito dell'opera di Segantini. La mostra sarà aperta fino al 10 giugno, quindi esattamente tutto l'arco di tempo della mostra a Palazzo dei Diamanti, e le visite guidate verranno fatte il sabato pomeriggio dalle 3 alle 7. È sempre meglio comunque dare un colpo di telefono prima per avvertire del proprio arrivo. Ora vi parliamo di una raccolta firme contro i falsi in agricoltura, che è stata avviata nei giorni scorsi da Coldiretti. Sentiamo. Ha preso il via venerdì 23 a Faenze, e proseguirà fino alla fine di aprile nei mercati di Campagna Amica dell'Emilia Romagna la raccolta di firme contro l'inganno del cibo fake nella spesa. Mobilitazione popolare lanciata in tutta Italia da Coldiretti e Campagna Amica per chiedere al Parlamento europeo che i consumatori abbiano la possibilità di conoscere da dove arriva il cibo che portano in tavola, fermare le speculazioni e difendere l'agricoltura italiana. A rischio fake nel carrello della spesa, ricorda Coldiretti e Miglia Romagna, c'è un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l'origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per i bambini. Nonostante i passi avanti, infatti, permangono ancora ampie zone d'ombra. Due prosciutti su tre venduti oggi in Italia provengono da maiali allevati all'estero, senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta, dove non è ancora obbligatorio indicare l'origine. È un problema che riguarda in realtà tutti i salumi e anche la frutta trasformata, dalle confetture alle conserve, l'insalata in busta, il pane o i funghi conservati che spesso, afferma Coldiretti, arrivano dalla Cina. La raccolta di firme rivolta al Presidente del Parlamento europeo viene svolta da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in ogni farmer's market d'Italia e online sui siti www.coldiretti.it e Campagna Amica. L'indicazione di origine, sottolinea ancora l'organizzazione agricola, permette di contrastare quelle imitazioni che ogni anno sottrangono 60 miliardi di euro all'economia italiana, consente di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali, rafforza la lotta alle agromafie e la difesa contro le grandi multinazionali del cibo che hanno interesse ad occultare l'origine delle materie prime. L'obbligo di indicare in etichetta l'origine è una battaglia storica di Coldiretti che con la raccolta di un milione di firme per la legge d'iniziativa popolare ha portato all'approvazione della legge 204 dell'agosto 2004. L'Italia, sotto il pressing di Coldiretti, il 13 febbraio 2018 ha fatto scattare l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del grano per la pasta e del riso, ma prima c'erano stati già diversi traguardi raggiunti. Nell'aprile 2017 è scattato l'obbligo di indicare il paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato già in vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l'obbligo di etichetta per il pollo made in Italy, mentre dal 1 gennaio 2008 vige l'obbligo di etichettatura d'origine per la passata di pomodoro. In chiusura il basket, quinta vittoria consecutiva per la Bondi, che batte un Euroforlì nell'alticipo della ventitresima giornata. Una gara dai due volti, quella del club che ha prima subito la difesa dei Romagnoli nei primi due quarti, andando sotto anche di otto punti. Nella ripresa la Bondi ha stretto le maglie in difesa, ha trovato qualche canestro da fuori, ma soprattutto è riuscita a segnare da vicino a canestro. Oltre al solito haul autentico mattatore, la Bondi ha trovato punti di rash e fantoni. A parte Naimi, Forlì ha sofferto la difesa ferrarese su Jackson. Dopo aver preso in mano le redini del gioco nel terzo quarto, la Bondi ha pigiato sull'acceleratore nel quarto periodo, arrivando anche a più dieci al trentanovesimo su canestro di rash. Ora il campionato si fermerà per lasciare spazio alla Coppa Italia e la Bondi tornerà in campo l'11 marzo a Treviso contro la De Longhi. E con questo è tutto, termina il nostro TV giornale. Vi ricordo il nostro sito www.terestense.it ma potete seguirci anche su Facebook, Twitter e Youtube. Grazie per averci seguito, buona giornata. Grazie per aver guardato il video.